Il Festival Treccani della lingua italiana sta per volgere al termine. La tre giorni dedicata allo stupore ha messo a punto anche per la sua ultima giornata un ricco programma di appuntamenti, tra incontri tematici, lezioni e spettacoli musicali. Tra gli illustri relatori anche l'ordinario di linguistica italiana all'Università per stranieri di Siena, nonché accademico della Crusca Massimo Palermo, che ha tenuto presso la libreria Liberrima di Lecce una lexio magistralis dal titolo le tante lingue del web, convivenza tra parola scritta, parola detta e altri linguaggi nell'infosfera. Le lingue del web sono tante perché il web ormai è un enorme contenitore in cui c'è tutto, quindi ospita tutti i registri dell'italiano, da quelli più sostenuti, basta per esempio vedere un sito istituzionale, ai registri più informali come quando usiamo i social, le piattaforme di comunicazione. La parola scritta o detta convive con altri codici semiottici, quello visivo, quello figurativo, quello sonoro e mescolati fra loro. A chiudere la sesta edizione del Festival Treccani sarà il concerto al Teatro Paesiello di Rais, voce degli Alma Megretta, con il gruppo musicale Radicanto. Dopo la tappa iniziale di Lecce, la rassegna culturale approderà anche a Roma, per poi concludersi a Lecco.